Quilché qualche d'una di queste pochett iscrivente da un altro tema, che è l'integrazione. l'integrazione allora adesso chiamiamo gli ospiti abbiamo l'onore di avere in presenza l'eurodeputato del PD Brando Benifei prego ringraziarlo perché è uno dei pochi con Nicola Danti e Simona Bonafè che sono arrivati qui in Canna ed Ossa e grazie per essere arrivati fin qua poi abbiamo Elisa Bacciotti responsabile delle campagne di Oxfam Oxfam penso la conosciate un po' tutti Oxfam è un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di integrazione di flussi migratori eccetera eccetera poi abbiamo Monir e Dardari Monir dove sei? Monir è un cult penso è uno chef bravissimo aspirante eh vabbè insomma però ti abbiamo già conosciuto apriti un po' di più così non sto eh e Giacomo Alberto Vieri giornalista scrittore e attivista di Must Act dobbiamo fare bene allora il tema voi avete il vostro intervento vi chiedo eh io però vi chiedo di se potete di declinare il vostro intervento cercando di rispondere a questa mia domanda che così non perdiamo tempo dopo rifarvela ovvero sia l'Europa allora io penso che l'Italia sia stata molto brava nel fare assistenza sui flussi migratori e sia stata pessima nel fare integrazione che sono due momenti assolutamente distinti come Oxfam ben sa credo che i canali per i metodi per insomma per cominciare a risolvere questo problema sono sostanzialmente tre aiuti nei paesi di prevenienza dei flussi che non è aiutatele a casa loro ma è un concetto simile perché là bisogna aiutare prima che lo facciano altri lo sta facendo la Cina lo sta facendo la Turchia quindi facciamolo noi magari lo facciamo meglio canali legali di arrivo e poi capacità di espulsione e di rispingimento cioè di rimpatrio per coloro che non si sanno integrare e questo lo deve fare l'Europa non può farlo l'Italia quindi questo credo sia il tema che a tutti un po' interessi se nei vostri interventi riuscite anche a dedicarmi una risposta a questo ve ne sarò grata prego cominciamo cominciamo con Brando e Benifei perché così ci dà delle risposte anche politiche forse non lo so spero proviamo intanto grazie si sta seduti no? si si anche io mi metto a sedere sullo sgabello perfetto va bene allora intanto grazie ancora come ogni anno all'istituto universitario europeo per alimentare questo dibattito in occasione della festa dell'Europa del 9 maggio e dei giorni precedenti e successivi e qua è un bellissimo luogo dove discutere io voglio essere molto chiaro il Parlamento europeo ci ha provato già nella scorsa legislatura a cambiare le regole sull'immigrazione ne cito una il regolamento di Dublino di cui si parla molto per costruire un sistema più solidale più funzionante io nella scorsa legislatura mi sono occupato anche del tema integrazione quindi le direttive che riguardano questo le risorse europee il fondo sociale c'è un problema c'è un problema di fondo c'è un'ipocrisia su cui bisogna squarciare un velo ci sono dei facili cattivi a cui è facile attribuire tutti i problemi lo dico da politico di una forza progressista ci sono quei governi nazionalisti ungherese polacco oggetto spesso di polemiche su questi temi che si è vero hanno bloccato delle riforme hanno bloccato anche la riforma del regolamento di Dublino e non vogliono costruire un sistema solidale ma la verità è che tutti i governi europei si nascondono un po' dietro questi facili cattivi per poi alla fine non trovare la volontà politica di fare alla fine il passo per costruire un sistema più solidale più funzionante ci si indigna per le accordi con la Turchia ma io dico con il sistema che c'è oggi che alternativa c'è siamo in grado di far entrare integrare queste persone milioni di rifugiati di richiedenti asilo non abbiamo delle regole non abbiamo un sistema pronto perché non c'è la volontà politica io l'ho visto l'ho visto alla fine dello scorso anno che anche quando sembra che le cose non si arrivi in fondo sul tema del piano di ripresa del Next Generation EU alla fine la volontà politica di trovare un accordo di fare un passo avanti quando si vuole la si trova allora io dico su questi temi oggi serve costruire un lavoro di sensibilizzazione di impegno mi è stato detto che sono stato invitato a parlare qui oggi in questa sede anche per il lavoro fatto da alcuni eurodeputati siamo stati in Bosnia in Croazia proprio sulla rotta balcanica io dico poi magari ci torneremo ma dico la questione fondamentale è che le persone escano dall'indifferenza perché finché non interessa ad abbastanza persone non diventa un tema di dibattito vero la dignità di queste persone che vivono magari in condizioni terribili nei campi oppure pensiamo alla situazione in Grecia o potremmo parlare di tante situazioni beh allora finché non diventa un tema che riguarda la nostra sentirci umani sentirci rispettosi della dignità degli altri beh alla fine i governi europei avranno sempre qualche facile cattivo a cui dire non facciamo le cose perché questo e questo ce lo impediscono non è vero e serve una mobilitazione delle persone per far cambiare passo serve che questa volontà politica qualcuno la tiri fuori perché così adesso stanno riprendendo le partenze per le partenze i flussi parliamo di schiavi che sfruttano queste cose cioè è tutto un sistema che non va allora un conto è se un paese da solo se ne fa carico non ha potere contrattuale non c'è verso che ce l'ha l'Italia non ce lo può avere l'Europa ce lo può avere potere contrattuale per trattare a certi livelli per regolamentare determinate situazioni prego sì allora io quindi fatelo per favore assolutamente è un tema di Europa ma è anche un tema di Italia lei ha parlato di integrazione mi piacerebbe qui dire che l'Europa può fare molto ma l'Italia può fare altrettanto iniziando ad integrare 900.000 ragazzi 900.000 persone che sono già in Italia e che sono minori stranieri che frequentano le scuole italiane si parla di persone che pensano sognano vivono in italiano e che oggi non diventano italiani fino al complimento dei 18 anni allora quando può essere già troppo tardi perché tu li devi integrare prima e di fatto tu li tieni in un limbo per cui sono uguali perché hanno gli stessi diritti e doveri ma non sono uguali poi di fatto allora perché noi non riprendiamo il dibattito sulla legge per la riforma della cittadinanza il segretario del partito democratico ci ha approvato e gliene diamo ovviamente atto perché però questo dibattito io mi voglio chiedere una cosa perché questo dibattito annega fra le polemiche perché forse non è un dibattito condotto su posizioni opposte ma con un dialogo di public policy perché forse è un dibattito troppo marcato da delle fake news da delle da dei discorsi di intolleranza quando non d'odio appunto il segretario il segretario Letta è stato attaccato con meme post questioni appunto contenuti virali semplicemente per aver detto che forse questo è un tema che va ripreso allora io mi dico l'Italia ha la responsabilità i nostri decisori politici hanno la responsabilità di riprendere questo dibattito però abbiamo anche noi la responsabilità di costruire un terreno culturale in cui non si possa non parlare di questi temi perché sono divisivi Oxfam per esempio con Openpolis lo sta facendo abbiamo costruito una piattaforma telematica che si chiama Check News checknewsopenpolis.it che serve a chiunque a ciascuno di voi che è in questa arena per andare a segnalare chi diffonde delle fake news d'odio contro i migranti contro minorenni stranieri anche contro altre categorie di persone vulnerabili per chiedere che vengano smentite che vengano analizzate e che si possa veicolare invece la versione corretta dei fatti noi ci proviamo come società civile perché il nostro ruolo culturale bisogna parlarne 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 dare numeri dare dati dimostrare che è un fenomeno che va affrontato è risolto e può essere e verificare le notizie perché sono spesso è un terreno tossico dell'informazione che a volte impedisce di parlare di un tema con una prospettiva limpida come questo cielo d'estate grazie allora andiamo avanti perché il tempo è tiranno purtroppo Monir invece raccontaci la tua bella storia allora buonasera a tutti vi ringrazio per chi non mi conoscesse sono Monir Dardari concorrente di Masterchef sono un ragazzo di origini marocchine sono nato e cresciuto in Italia ma entrambi i miei genitori sono marocchini tu sei cittadino italiano cittadino italiano anche i miei genitori vennero in Italia ben 45 anni fa e io oggi non vorrei parlare di politica perché non sono in grado e quindi voglio portare un esempio quello che è il mio esempio i miei genitori mi hanno cresciuto con diciamo una doppia cultura vi faccio un esempio molto stupido quando ero piccolo i miei genitori facevano l'albero di Natale nonostante noi non siamo una famiglia cristiana ma siamo una famiglia musulmana questo perché perché io andavo all'asilo dove c'erano tutti i ragazzi cristiani che facevano l'albero di Natale e i miei genitori intelligentemente facevano l'albero durante il Natale a Pasqua mi aveva regalato l'uovo di Pasqua perché perché dovevo essere come gli altri però c'è anche da dire che quando entravo dentro casa io parlavo in arabo quindi che succedeva io mantenevo le mie radici marocchine però portavo avanti anche quelle italiane quindi quando mi chiedono adesso Monire ma ti senti più italiano o marocchino e ti dico entrambi voglio dire non mi sento né italiano né marocchino nel mio sangue scorre sicuramente sangue marocchino devi rispondere siamo mediterranei perché noi siamo mediterranei Firenze è la città di Lapira che diceva il Mediterraneo è il lago di Europa quindi noi siamo mediterranei sono culture che si incontrano e come dico a tutti e come ho detto anche a Masterchef l'integrazione non andrà mai a sovrastare la cultura italiana ma andrà solamente ad arricchirla perché c'è l'integrazione buona c'è l'integrazione pulita e premetto che io non sono mai stato discriminato quindi ragazzi vedetemi come esempio e come dice qui la mia collega se vedete delle fake news o qualcosa del genere segnalatelo segnalatelo non è veloce veloce senti ma come è mescolato il gusto marocchino con la cucina italiana dici una ricettina piccola piccola allora la cucina italiana pasta fresca molto basic cucina marocchina molto speziata che ho fatto cappellacci con all'interno un piatto marocchino quindi vai a mangiare la pasta fresca con un sapore molto 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 speziato e se un giorno aprirò un ristorante cosa molto difficile ma non se sa mai proverò a fare questo connubio questa sorta di fusion e sarete tutti quanti ovviamente invitati ma dove in che città dove vivi? allora io sono nato e cresciuto in Umbria nel cuore Bevagna nel cuore Bevagna che è un piccolissimo ma incantevole borgo medievale come dico a tutti avrò la possibilità lo farò lì altrimenti ci sono fondi per l'imprenditoria giovanile nel PNR fate avanti presenti progetti perfetto provaci grazie mille è vero Brando che ci sono i fondi nel PNR spiegati questi fondi perché io lo sto dicendo ma non mi credono no no ci sono ci sono anche Draghi ma come accedono loro a questi fondi tramite il comune la regione verranno messi in campo attraverso scusate verranno messi in campo attraverso lo svolgimento del piano che ci metterà insomma abbiamo tre anni davanti per usare queste risorse ieri l'ho ricordato Draghi a Porto al summit sociale giovani donne aree svantaggiate anche aree interne come Bevagna che io conosco insomma aree in cui diciamo persone giovani donne a cui dare un sostegno speciale quindi anche per creare nuove imprese l'ho detto ieri anche Draghi è vero è nel piano e andiamo avanti così gli hanno pure tagliato il discorso come faranno tra poco qui a noi Alberto Mastact raccontaci la storia di Mastact che cosa può fare Mastact adesso ok io parlo per ultimo anzitutto grazie a tutti per l'invito io parlo per ultimo forse nemmeno a caso perché si è parlato di Europa si è parlato d'Italia però e io più volte oggi ho sentito dire anche della dimensione locale l'Europa è anche nel locale e beh questo è anche un po' il senso di Firenze Mastact Firenze Mastact nasce dopo un sit-in in Piazza della Repubblica a settembre quindi è giovanissimo fa parte dei capitoli dei Cities Mastact che sono tante città in tutta Europa in Italia per adesso siamo Firenze e Verona e tante città in tutta Europa che aderiscono a un movimento più grande europeo che è quello proprio di Europe Mastact nato da 160 organizzazioni e volontari che operavano più che altro nelle isole greche dell'Egeo e nasce anche quello nel 2020 con l'idea proprio di chiedere il ricollocamento di richiedenti asilo e rifugiati per chiedere politiche non di deterrenza e politiche più umane cosa facciamo noi come Firenze Mastact e che cosa potrebbero fare tutti pressoché presso i propri comuni anche semplicemente proporre il modello di delibera che noi abbiamo stilato che è una delibera semplicemente appunto da proporre ai propri referenti diciamo del proprio paese comune città quello che si vuole nell'area fiorentina hanno già aderito il comune di Pontassieva e quello di Campi Bisenzio con nostro grande orgoglio e tramite questa delibera fondamentalmente si lavora alla definizione collettiva di un progetto di accoglienza diffuso più eco qui in Toscana si avvia campagne di sensibilizzazione perché anche questo è importante cioè banalmente adesso che si parlava anche di giovani eccetera noi abbiamo fatto questo esperimento grazie ad Allegra Salvini che con me fa parte di questo che lavora al Parlamento Europeo oggi sarebbe dovuta essere qua abbiamo fatto questo esperimento nelle scuole per parlare di questo abbiamo lasciato dei bigliettini dei post-it chiedendo ai ragazzi che cosa avrebbero fatto li abbiamo postati sul nostro profilo Instagram se vi interessa nelle scuole nelle scuole ragazzi dai 15 ai 19 anni chiedendoli che cosa farebbero se domani arrivasse una persona da questi paesi e risposte come lo porterai l'antico vinaio a mangiare un panino oppure risposte più complesse come gli insegnerei l'italiano per insegnare ad esprimersi secondo me fanno capire quanto in realtà nel locale nel piccolo nei giovani quest'idea ci sia la sensibilizzazione va incentivata ma c'è e mi permetto di dire l'ultimissima cosa grazie proprio al comune di Pontassieve che è uno dei due aderenti dalla prossima settimana per chi capita in quella zona ci sarà una bellissima mostra organizzata proprio alla biblioteca di Pontassieve che abbiamo diciamo abbiamo aiutato noi come Firenze Must Act a mettere su del collettivo Naiusi Memoria non so se qualcuno di voi lo conosce se siete instagrammari magari lo conoscete è un profilo molto bello fatto appunto da una foto editor spagnola e da dei ragazzi che abitavano che erano bloccati a Moria tra il 2015 in poi e siccome la stampa non poteva entrare loro hanno iniziato a fotografare quello che c'era la vita reale dei campi a mandarli a questa ragazza e lei ne ha creato un profilo Instagram chiedendo poi a tanti illustratori e grafici in tutta Europa di graficizzare queste foto sono dei poster molto belli dove si trovano? si trovano su Naiusi Memoria adesso mi vedi Moria e c'è anche una raccolta fondi che scade fra poco per realizzare un libro e noi li abbiamo stampati e li metteremo alla biblioteca comunale di Pontassieve perfetto Monir prendici per la gola Brando prendi i tuoi colleghi e fate qualcosa Oxfam e MaxTact grazie di tutto quello che fate arrivederci grazie buongiorno a tutti ringrazio l'istituto universitario di Firenze per avermi invitato all'evento Bringing the State of the Union closer to citizens vorrei parlarvi brevemente di alcuni aspetti relativi alla gestione dei flussi migratori flussi migratori che rappresentano un fenomeno sociale sempre esistito e tra i più difficili da gestire a causa di guerre persecuzioni povertà mancanza di lavoro cambiamenti climatici migliaia di persone sono costrette a lasciare i propri paesi di origine e fino a quando queste cause persisteranno le nostre frontiere potranno subire delle pressioni con il rischio che si ripetano incidenti mortali lungo le rotte per l'Europa o anche violazioni di diritti umani problematiche nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale di rimpatrio e di criticità nei sistemi di accoglienza nonché tensioni sociali in base all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea le politiche europee di asilo immigrazione e controllo delle frontiere devono essere governate dal principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità anche sul piano finanziario tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea però tale principio non ha trovato piena attuazione nel corso dei diversi tentativi di riformare le regole europee in materia soprattutto a causa degli egoismi nazionali i paesi di prima linea come l'Italia si ritrovano periodicamente ad affrontare i maggiori problemi inerenti alla gestione dei flussi migratori è il regolamento di Dublino 3 che è il pilastro intorno a cui ruota il funzionamento del sistema europeo comune di asilo nonostante l'enfasi che ha accompagnato le proposte di riforma contenute nel nuovo patto sulla migrazione di asilo presentato dalla Commissione Europea continua a scaricare responsabilità sproporzionate sui paesi di primo ingresso per l'esame della domanda di protezione internazionale o anche per l'accoglienza per le risorse economiche e umane da mettere in campo la Commissione Europea attraverso la prima strategia sui rimpatri volontari e la reintegrazione che è stata presentata recentemente agevolerà con incentivi il ritorno volontario nei paesi di origine di coloro che non hanno il diritto di soggiornare in Europa si presume che ciò avverrà direttamente dai paesi di primo ingresso infatti la strategia non accenna ad un'eventuale redistribuzione in Europa degli arrivi per poi avviare i rimpatri da tempo nelle istituzioni europee è in corso il dibattito sulla carenza di vie legali e sicure verso l'Europa sia per la ricerca di protezione internazionale sia per la migrazione dettata da motivi di lavoro in questa direzione i lavori del Parlamento europeo hanno riguardato ad esempio lo strumento del reinsediamento così come la proposta di un sistema di visti umanitari dell'Unione europea che consentirebbe ai richiedenti asilo di venire in Europa senza ricorrere ai trafficanti di esseri umani al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale altri lavori riguardano la riforma della direttiva Blue Card per attrarre lavoratori altamente qualificati e anche il recente rapporto di iniziativa legislativa sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera il percorso da compiere su questa strada sarà ancora lungo e si presuppone non privo di ostacoli la mancanza di adeguati canali di ingresso legali spinge i migranti a raggiungere l'Unione europea in modo irregolare e questa situazione è una fonte di lucro per le reti criminali che controllano rotte migratorie sempre più pericolose e mortali sono ingenti i profitti derivanti dal traffico dei migranti dalla tratta e dallo sfruttamento di esseri umani e tali proventi illeciti finiscono per essere investiti in attività illegali per alimentare altri gravi fenomeni criminosi come la corruzione il riciclaggio di denaro o per inquinare l'economia legale in conclusione la disponibilità e l'accessibilità delle vie legali e sicure come alternativa alla migrazione irregolare contribuirebbe in modo significativo non solo a smantellare il modello di business dei trafficanti ma anche a salvare più vite umane e a prevenire violazioni di diritti fondamentali io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione dei lavori ciao a tutti l'immigrazione è un tema difficile delicato molto divisivo proverò a darvi il mio contributo in pochi minuti cominciamo col dire che nessuna popolazione può fare a meno di una determinata quota di immigrazione è necessaria purché sia ben definita nei numeri filtrata nelle caratteristiche organizzata nelle procedure altrimenti si creano disordini sociali si favorisce la criminalità organizzata il lavoro nero il depreciamento della mano d'opera si generano false aspettative che finiscono per trasformarsi in disperazione e talvolta persino in atti di terrorismo come è capitato recentemente l'immigrazione non va subita va governata affinché porti benessere sia a chi ospita sia a chi viene ospitato e diventa parte integrante di una nuova comunità per fare questo non bastano le belle parole servono le buone scelte e la capacità di metterle in pratica serve stabilire a monte nei paesi di partenza prima di mettersi in viaggio chi ha diritto e chi non ha diritto all'asilo in Italia e in Europa a chi ne ha diritto bisogna assicurare un luogo dove vivere un lavoro un'esistenza dignitosa e prima di ogni altra cosa un mezzo sicuro per viaggiare coloro i quali necessitano di protezione perché vittime di persecuzioni personali o perché esposte a conflitti che ne mettono in pericolo l'incolumità devono poter essere messi nelle condizioni di raggiungere i nostri territori attraverso vie legali non più barconi e scafisti dunque ma navi sicure o aerei qualche anno fa esistevano i decreti flussi che stabilivano anche chi pur non essendo in pericolo poteva venire in Italia sapendo fare un determinato lavoro di cui c'era carenza esempio nel 2021 possiamo accogliere dal Nord Africa 2000 abbraccianti o 500 falegnani 50 ingegneri o 5.000 badanti accogliamoli stando bene attenti che non siamo delinquenti e perché no magari privilegiando chi è di religione cristiana e quindi agevolato dell'integrazione sociale oggi non è così in Italia si entra solo illegalmente pagando gli scafisti che trafficano con i centri sociali imbarcati sulle navi ONG rischiando la morte in mare e quando si riesce a sopravvivere si finisce schiavi soprattutto schiave di criminali senza scrupoli lo ripetiamo da mesi bisogna fermare le partenze determinare a monte lo status di migrante e accogliere solo chi siamo in grado di accogliere è razzismo io credo sia buon senso questa linea stiamo portando avanti nel percorso che ci guiderà al nuovo patto per la migrazione e l'asilo insieme con un'altra non meno importante ma che sembrano interessare proprio a nessuno come è stato detto da chi è ben più autorevole di me prima del diritto ad emigrare esiste il diritto a non dover emigrare lasciando indietro la propria casa i propri cari rimuovere le cause per cui qualcuno è costretto a cercare fortuna altrove deve essere un impegno reale e concreto da parte dell'Unione Europea invece prevalgono altre logiche molto politiche per nulla umanitarie ciao a tutti e grazie dell'attenzione ciao a tutti grazie 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 grazie